Il gusto proibito dello zenzero, di Jamie Ford L'hotel Panama, 1986 Il vecchio Henry Lee restò pietrificato di fronte al trambusto davanti all'hotel Panama. Ciò che all'inizio era solo un crocchio di curiosi che osservavano una troupe del telegiornale era lievitato fino a diventare una massa ordinata di persone. Gente in giro per gli acquisti, turisti e qualche punk di strada. Tutti si chiedevano se fosse successo qualcosa di grosso. In mezzo alla resta c'era anche Henry, le borse della spesa in mano. Si sentiva come se si stesse svegliando da un sogno a lungo dimenticato. Un sogno che aveva fatto una volta, da ragazzino. Henry aveva visitato quell'antico punto di riferimento di Seattle solo due volte in tutta la sua vita. La prima, quando aveva appena dodici anni, nel lontano 1942. Gli anni della guerra, come gli piaceva chiamarli. Già allora, quell'albergo per scapoli era come una porta fra il quartiere cinese di Seattle e Nyonmaki, il quartiere giapponese. Due avamposti di conflitto del vecchio mondo, dove gli immigrati cinesi e quelli giapponesi di rado si parlavano, anche se i loro bambini, americani per nascita, spesso giocavano insieme per strada. L'hotel Panama era sempre stato un punto di riferimento perfetto, il luogo ideale per darsi appuntamento. Era stato lì che, un tempo, Henry aveva incontrato l'amore della sua vita. La seconda volta era oggi, nel 1986, più di quarant'anni dopo. Pazzesco, eh? Henry aveva smesso di contare gli anni a mano a mano che si accumulavano nella memoria. Dopotutto, aveva vissuto una vita intera fra le due visite all'albergo, che ora apparivano un po' come due fermalibri. In mezzo c'era stato un matrimonio, la nascita di un figlio ingrato, il cancro e una sepoltura. Sentiva la mancanza di sua moglie, Ethel. Erano passati già sei mesi dalla sua scomparsa, eppure non gli mancava tanto quanto avrebbe creduto, benché, detto così, potesse sembrare brutto. In realtà provava più che altro una sorta di mutuo sollievo. Sua moglie aveva molto sofferto per una salute che non era cattiva, ma peggio. Il cancro alle ossa che l'aveva colpita era stato completamente paralizzante, per tutti e due, pensò Henry. Negli ultimi sette anni lui l'aveva imboccata, lavata, l'aveva aiutata ad andare in bagno quando ne aveva bisogno e a ritornare in poltrono una volta finito. Si era preso cura di lei notte e giorno, 24 ore su 24, sette giorni su sette. Marty, suo figlio, avrebbe voluto metterla in una clinica, ma Henry si era opposto con fermezza. Non finché sono vivo, aveva esclamato, opponendo il suo rifiuto. Non dipendeva solo dal fatto che lui era cinese, benché il suo atteggiamento in parte derivasse anche da questo. L'ideale confuciano che imponeva la pietà filiale, il rispetto e la riverenza verso i propri genitori, era un'eredità culturale che la generazione di Henry non poteva scartare con facilità. Era stato educato a prendersi personalmente cura dei suoi cari e mettere qualcuno in una clinica gli pareva inaccettabile. Quello che suo figlio Marty non aveva mai capito fino in fondo era che nella vita di Henry c'era un buco a forma di Ethel e che senza di lei lui avvertiva solo il refolo della solitudine, freddo e tagliente, e gli anni che sgocciolavano via, come il sangue da una ferita che non si rimargina mai. Ora Ethel se n'era andata per sempre. Henry aveva deciso che bisognava seppellirla alla maniera tradizionale cinese, con le offerte di cibo, le coperte della longevità e le cerimonie di preghiera che duravano diversi giorni, nonostante Marty insistesse per farla cremare. Era così moderno lui. Era andato da uno psicologo e aveva affrontato la morte della madre rivolgendosi a un gruppo di sostegno online, qualsiasi cosa fosse. A Henry entrare in contatto con qualcuno online faceva un po' l'effetto di parlare con nessuno, cosa di cui aveva avuto una certa esperienza diretta nella vita reale. Il contatto online era solitario, quasi quanto Lakeview Cemetery, dove aveva seppellito Ethel. Adesso l'ego deva di una vista favolosa sul lago Washington ed era sepolta accanto ad altri notabili cinesi di Seattle, come Bruce Lee e suo figlio Brandon. Ma in fin dei conti, ognuno di loro occupava una fossa a sé, costretto alla solitudine per l'eternità. Che importanza poteva avere chi fossero i tuoi vicini? Tanto c'era poco da spettegolare. Quando faceva buio come adesso, Henry chiacchierava con sua moglie e le chiedeva come fosse andata la giornata. Lei ovviamente non rispondeva. Non sono mica matto o roba del genere, diceva Henry rivolto al nulla. Sono solo di idee aperte. Non si sa mai. Potrebbe darsi che Ethel mi senta. Dopodiché si metteva a potare le piante d'appartamento, la palma cinese o il sempreverde, le cui foglie ingiallite rivelavano quanto Henry le avesse trascurate nel corso degli ultimi mesi. Adesso, però, aveva di nuovo tempo. Poteva dedicarsi a qualcosa che, per una volta, non sarebbe peggiorata. Ogni tanto, comunque, Henry si trovava a pensare alle statistiche. Non del tasso di mortalità del cancro, che aveva ghermito la povera Ethel. Piuttosto, meditava su sé stesso e sulla propria esistenza, misurata sulle tavole attuariali di un'assicurazione sulla vita. Aveva solo 56 anni, un giovanotto secondo i suoi standard. Ma aveva letto su Newsweek dell'inevitabile declino della salute nel caso della perdita del coniuge alla sua età. Forse l'orologio etichettava davvero? Non era sicuro, perché da quando Ethel se n'era andata il tempo aveva cominciato ad arrancare, orologio o no. Adesso che aveva accettato l'offerta di pensionamento anticipato dagli stabilimenti Boeing, Henry aveva tutto il tempo che voleva, ma nessuno con cui condividerlo. Nessuno con cui fare due passi per andare a comprare gli Uet Bang, i dolci alla carota, nelle fredde sere d'autunno. Invece, eccolo lì, solo soletto in mezzo a una resta di sconosciuti. Un uomo impigliato fra due vite, ancora una volta davanti all'Hotel Panama. Seguì la folla su per i gradini di marmo bianco crepati, che facevano sembrare il palazzo più un centro di riabilitazione Art Deco che un albergo. Anche l'edificio, proprio come Henry, sembrava intrappolato fra due mondi. Ciò nonostante, Henry si sentiva nervoso ed eccitato, esattamente come tutte le volte in cui c'era passato davanti da ragazzino. Al mercato aveva sentito circolare una voce ed era arrivato fin lì, passando dal negozio di videocassette di South Jackson. All'inizio aveva creduto che ci fosse stato qualche incidente a causa della folla sempre più numerosa, ma non aveva sentito né visto niente, nessuna sirena ululante né luci lampeggianti. Solo gente che si ammassava davanti all'albergo, come una marea che sale, gente che si avvicinava spingendo un piede avanti all'altro, passo dopo passo. Avvicinandosi, Henry aveva visto arrivare una troupe televisiva e l'aveva seguita. La folla si era aperta. I presenti, intimoriti dalle telecamere, si erano fatti educatamente da parte, sgombrando la strada. Henry si era messo alle calcagne della troupe, trascinando i piedi così da non pestare nessuno o da non essere pestato a sua volta, sentendo la calca che gli premeva alle spalle. In cima alla scalinata, appena dentro il vestibolo, sentì la nuova proprietaria dell'albergo annunciare «abbiamo trovato qualcosa nel seminterrato». Che cosa avevano trovato? Un cadavere, forse? Oppure un laboratorio clandestino per preparare qualche nuova droga? No, se l'albergo fosse stato la scena di un crimine, la polizia avrebbe già transennato l'area. L'hotel Panama era rimasto in stato di abbandono fin dal 1950, le porte e le finestre chiuse con assi di legno, prima che subentrasse la nuova proprietaria. In tutti quegli anni, il quartiere cinese era diventato un ghetto in cui si erano insediate le Tong, società segrete di Hong Kong e Macau. Di giorno, gli isolati a sud di King Street erano caratterizzati da un'affascinante trasandatezza. I rifiuti e le bave di lumaca sul marciapiede erano in generale ignorati dai turisti, che vagavano con lo sguardo rivolto verso l'alto, studiando le modanature decorative di un'architettura di un'altra epoca. I bambini in gita di istruzione, imbacuccati nelle giacche e nei cappelli dai colori vivaci, si tenevano per mano e seguivano il proprio naso ammirando immagini che facevano venir loro l'acquolina in bocca. Anatre arrosto in mostra nelle vetrine, pastelli rossi penzolanti che si scioglievano al sole. Ma di notte, per quelle strade e quei vicoli bazzicavano spacciatori e prostitute ossute di mezza età che battevano il marciapiede per comprarsi la dose. Il pensiero di questa icona della sua infanzia avviata a diventare un fortino della droga, con laboratori di fortuna per trasformare la cocaina in crack, lo riempì di una dolorosa malinconia che non aveva più provato da quando aveva stretto la mano di Ethel, osservandola esalare l'ultimo, lungo, lento respiro. Le cose preziose, a quanto pareva, se ne andavano tutte per non tornare più. Henry si tolse il cappello e cominciò a sventolarsi con la falda logora, mentre la folla si spingeva sempre più avanti, premendo dal fondo. Scattarono i flash. In punta di piedi Henry osservò la scena da sopra la spalla dell'alto giornalista televisivo che aveva davanti. La nuova proprietaria dell'albergo, una donna bianca snella, appena un po' più giovane di Henry, emerse dalle scale del seminterrato reggendo in mano un ombrello. Lo aprì e il cuore di Henry si mise a battere più veloce appena vide meglio il manufatto. Era un parasole giapponese di bambù, rosso e bianco, con un disegno arancione raffigurante una carpa coi, simile a un gigantesco pesciolino rosso. Dal parasole, che aveva l'aria fragile, si sparse una nuvola di polvere che fluttuò sospesa a mezz'aria, mentre la nuova proprietaria dell'albergo faceva ruoteare l'ombrellino davanti alle macchine fotografiche. Altri due uomini portarono su dalle scale del seminterrato un baule che recava le etichette dei porti serviti dalla Admiral Oriental Line, con partenze da Seattle e Yokohama. Su un lato c'era scritto un nome, Shimizu, dipinto a mano in grandi lettere bianche. Il baule venne aperto per soddisfare la curiosità della folla. Dentro c'erano vestiti, album di fotografie e un vecchio cuociriso elettrico. La nuova proprietaria dell'albergo spiegò che nel seminterrato aveva rinvenuto numerosi effetti personali appartenuti a 37 famiglie giapponesi che presumeva erano state perseguitate e deportate. La roba era stata nascosta e mai più recuperata, una involontaria capsula del tempo che risaliva agli anni della guerra. Henry restò a osservare in silenzio la piccola parata di casse da imballaggio di legno e valigie di cuoio recuperate dal seminterrato. La folla osservava con meraviglia quegli averi un tempo preziosi, un abito bianco da comunione, dei candelieri di argento annerito, una cesta da picnic. Oggetti che erano rimasti lì, intonsi, a raccogliere la polvere per più di 40 anni. Oggetti tenuti in serbo in attesa di tempi migliori che non erano mai arrivati. Più Henry pensava a quelle vecchie cianfrusaglie sgangherate, a quei tesori dimenticati, più si domandava se anche il proprio cuore infranto non fosse là sotto, nascosto insieme a quegli oggetti appartenuti a un'altra epoca. Oggetti che nessuno aveva mai reclamato, chiuso sotto le assi nel seminterrato di un albergo abbandonato, o un cuore perduto ma mai dimenticato.